Negli ultimi mesi avete visto quante volte ha cambiato idea? Che so, Conte. Conte è fantastico. Conte è uno che se non ci fosse andrebbe inventato. Infatti quelli che non apprezzano Conte sbagliano. Guardate che Conte è una sagoma. Riesce con una faccia straordinaria a dire tutto il contrario. L'altro giorno l'ho visto in un comizio a Roma. Ha detto andate dalla Lega a chiedere dove sono i 49 milioni. E tutti bravo! Poi abbiamo preso un video e c'era Conte che diceva è una vergogna gli attacchi alla Lega. Mi offro di difendere la Lega e di fare l'avvocato difensore della Lega. Pensa sul reddito di cittadinanza. Salvini dice farò con Renzi il referendum. Io mi giro e guardo, scusa Salvini, ma te c'hai un omonimo. Sei quello che ha firmato per il reddito di cittadinanza. Che ha votato il reddito di cittadinanza. Conte dice è una vergogna che abbiamo fatto il decreto Salvini. Il decreto Salvini è il decreto Salvini, Conte.